Due giorni fa in un'abitazione a Roseto degli Abruzzi è stata trovata quella tartaruga, una tartaruga azzannatrice e estremamente pericolosa. Quanto pesa, che età dovrebbe avere? È un esemplare di circa 15 kg, l'età stimabile è intorno ai 20-25 anni, è un esemplare comunque adulto. La provenienza? Sono specie che sono diffuse in tutto il Sud America e anche America del Nord, sono ampiamente diffuse, si trovano nei bacini idrici più grandi, vivono costantemente immerse nel fondale dove cacciano pesci e quant'altro capite al loro tiro. Avete visto con che reattività attacca, è una tartaruga men che meno lenta, quindi che sfata il proverbio che la tartaruga sia un animale lento, velocissima ed è molto rapida ed è un animale pericoloso, pericoloso per chiunque ci si avvicini in maniera incauta, era detenuta in maniera libera in un giardino. Come potrebbe, dovrebbe essere arrivata a quell'Italia? Sono esemplari che ormai purtroppo vengono commercializzati come animali da compagnia. La loro commercializzazione risale soprattutto a diversi anni fa, dal 1996 ad oggi la commercializzazione, la detenzione di questi animali e quindi anche l'importazione è vietata perché appunto vengono considerati come specie pericolose per la salute e la pubblica incolumità. Quindi dal 1996 non dovrebbero essere più importati, questo probabilmente è un esemplare che è stato importato prima del 1996 e comunque veniva detenuto appunto senza le opportune garanzie del caso. Anche perché al di là del fascino dell'esotico, ricordiamo, ha degli artigli estremamente pericolosi per non parlare del morso, tant'è vero che si chiama zannatrice. Sì, esatto, sono animali che sono estremamente pericolosi se non si sanno maneggiare, tant'è vero che poi uno dei fatti a cui ci troviamo spesso di fronte è proprio l'abbandono di questi animali quando appunto una volta diventati di notevoli dimensioni e di difficile gestione la persona che, ahimè, l'aveva comprata un po' di anni fa se ne vuole disfare. Per loro è una condanna a morte, creano un po' di problemi all'ecosistema dove vengono abbandonati. E ora la nostra tartaruga dove andrà a finire? Cercheremo una struttura che abbia chiaramente mezzi e spazi adeguati per poterla detenere e anche le capacità gestionali per poter portare avanti questo esemplare. Ma guardate la coda, sulla coda c'ha delle specie...